a porcari nasce il primo festival della carta la manifestazione prende il nome di cartacea e si terrà sabato 4 e domenica 5 giugno dalle 10 fino al tramonto in piazza felice orsi e all'interno della fondazione giuseppe lalzareschi promotrice dell'iniziativa grazie alle scenografie firmate dalla premiata ditta cinquini noti carristi via regini porcari si trasformerà in una cittadella della carta con numerose iniziative in programma all'interno del palazzo di vetro della fondazione per esempio si potrà visitare un percorso che illustrerà il processo di sviluppo della produzione cartaria con uno sguardo sul futuro il nuovo festival è stato presentato questa mattina 17 maggio dalla direttrice della fondazione cristina lalzareschi dal sindaco di porcari leonardo fornaciari dal presidente di lucenze giovanni gambini e dal direttore artistico di cartacea fabrizio di l'aiuto l'idea di cartacea è semplice porcari è il polo cartario più importante d'europa ma mi hanno corretto perché mi hanno detto che il polo cartario più importante del mondo e quindi una festa sulla carta perché non farla e allora il 4 e 5 vi invito a partecipare perché avremo stand gastronomici c'è un mercatino artigianale musica dal vivo con la gaudax band presentazione di libri premio cartacea spazio bambini collaboratori per cui un modo diverso di passare un sabato una domenica tutto è ingresso libero qui a porcari appuntamento quindi per giugno cartacea festa del tisso e carta cartone vi aspettiamo